I materiali per la composizione di un sacchetto tessuto non tessuto, sacchettino in TNT, una bobina di raffia, in questo caso sintetica colorata, nastro decorativo in tessuto Vichy e un pic mughetto. Prendo un sacchetto TNT, inserisco la mia imbottitura che potrebbe essere un'ovatta e quindi eventualmente il regalo da regalare, prendo la raffia, arriccio e leggo strozzando il sacchetto, ecco, taglio, poi utilizzerò la raffia anche per fare un secondo fiocco, quindi faccio una serie di anelli con la raffia, in questo modo, ok? Ok? Li appoggio e chiudo. Taglio gli anelli per rendere un po' più voluminoso il fiocco. Li pareggiamo, poi prendo il nastro Vichy e faccio quattro asole. È un nastro animato, quindi è facile da lavorare e rimane in forma proprio come noi lo disponiamo. Chiudo, poi prendo la pic di mughetto, la appoggio e chiudo. Rifaccio un po' di anelli con la raffia davanti e stringo. Apro un po' gli anelli, poi la raffia, questa è bella perché si può aprire e fare e sfrangiare, così, e tagliamo anche il nastro. Ecco, il sacchetto in TNT con il nastro Vichy e i mughetti è pronto. Grazie. 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 Grazie.